Voglio iniziare questa conferenza stampa dicendo che sono orgoglioso di allenare un gruppo di giocatori come quelli che vestono la maglia di Varese. Questo, al di là della vittoria, che chiaramente è importantissima perché è una vittoria che ne seguivamo da parecchio tempo, che avevamo giocato partite comunque competitive che c'erano in trasferta, c'erano suggite sempre per dei piccoli particolari, la partita di Pesaro dove abbiamo tirato meno bene del solito, i tiri liberi e questo ci è stato caro. Oggi abbiamo giocato e vinto soprattutto una partita molto ma molto difficile, molto difficile per un avversario, un avversario che era in grande condizione, aveva grande fiducia perché era una vittoria importante come quella di Tremona. Una partita che era difficile all'inizio per l'avversario è diventata ancora più difficile per la situazione, falli che abbiamo dovuto affrontare. Ho giocato non 40 minuti ma 45 minuti con l'inquivo dei falli, abbiamo avuto tanti giocatori carichi di falli già dall'inizio della partita. Per rispondere a una domanda che ho sentito, 24 falli a 15, quindi credo che su questo dato non ci sia niente da dire, sono numeri che dicono bugie, dicono la realtà e quindi se c'è qualcuno che si può lamentare del numero dei falli sicuramente non è casale questa nozione. Abbiamo saputo affrontare questa partita che si era messa anche in modo particolarmente difficile quando Segura ci ha creato diversi problemi. Segura è stato molto bravo nel momento migliore di casale a punire sempre e costantemente la nostra difesa sui suoi pick and roll e lì si poteva anche decidere la partita. Però abbiamo reagito, abbiamo reagito, abbiamo reagito cambiando anche il nostro atteggiamento. Abbiamo scelto di non lasciare più saputo da solo, non l'abbiamo raddoppiato inizialmente in modo che lui muovesse la palla. Fortunatamente ha trovato dei tiratori, ma i tiratori non hanno fatto canestro. E poi la nostra zona. Nella nostra zona è diventata l'arma decisiva per tutto il resto della partita, compreso il tempo supplementare. è chiaro che nel momento in cui fai una difesa del genere e dai risultati, la squadra a prendere un filo ce la fa sempre ancora più convinta, si arriva sempre di più. Questo è stato sicuramente un grosso vantaggio per avere comunque sempre la possibilità di essere che, se non in vantaggio, comunque vicini all'andare in vantaggio. È stato così anche alla fine quando abbiamo preso il canestro del pareggio. Devo dire che la squadra è stata molto brava nel liberare Cancure per il tiro finale. E poi ritengo e sono straconvinto che nel tempo supplementare abbiamo legittimato il nostro ritorno. No, la prima opzione era Diabarà, però pensavamo anche che su Diabarà avrebbe cambiato e quindi si era previsto che Diabarà portasse via di fatto l'uomo di Cancure che cambiava e Diego doveva cambiare per Cristo. per cui è venuta fuori con me. Poi è benissimo che arrivi lì, la costruisci bene, una volta segni, tre volte non segni. Quello che conta è che poi alla fine fai il tiro che tu volevi. Se non l'avessero fatto, chiaro che cambiava molto la pratica e quindi la realtà della partita, ma rimaneva comunque la sostanza. Abbiamo comunque giocato una partita, abbiamo fatto l'ultimo tiro che volevamo fare. L'intento non è quello, l'intento è quello di avere rotazioni più ampie come abbiamo avuto in altre partite e oggi effettivamente anche il fatto di poter giocare a zona per parecchio tempo, non è che ti riposi giocando a zona, però sicuramente puoi anche magari spegnere qualcosina meno, per cui abbiamo potuto farlo. È chiaro che oggi va bene così, però non dobbiamo pensare, non possiamo pensare che questo debba essere la regola per sempre per tutte le partite, anzi noi abbiamo bisogno, perché lo abbiamo avuto, anche tutte le volte che i giocatori che oggi hanno giocato poco, da Garri a Ganeto a Reatti, hanno dato sensibilmente il loro contributo e per la squadra è stata sicuramente facile. L'obiettivo è quello che loro possano, nelle prossime ultime partite continuano a continuare come dovranno fare nella professione. Poi dopo ogni partita la fascia di sé. Non è un migratorio che devi giocare 10, non è un migratorio che devi giocare allo stesso tempo, qualche volta, qualche volta lo si fa, perché la partita lo permette, sicuramente in una partita può capitare dei giochi quasi sempre gli stessi. Arrabbiarsi, ti arrabbi, però quello che conta è finire la partita, non è da arrivare in escandescenza, devi accettare quello che c'è, quello che ti capita, e il messaggio che mandavamo ai giocatori sistematicamente era quello che la partita dovevamo vincere noi, non dovevamo fessarci assolutamente niente, dovevamo giocare contro qualsiasi situazione ci trovavamo.